Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 luglio. Vorrei chiedere a tutti quanti voi di vedere i primi 5 minuti della zuppa di ieri, anzi forse è meglio che vi riassumo perché ho il mio librettino con gli appunti. Ieri la zuppa di ieri, cari amici, partiva dai titoli del Corriere della Sera e di Repubblica, mi risegnano i titoli del Corriere della Sera e di Repubblica, timori per i nuovi focolai, apertura del Corriere della Sera, 20 punti critici in Italia, ieri il Corriere della Sera titolava la prima pagina, notizia più importante, timori per i nuovi focolai, 20 punti critici in Italia, poi il quotidiano La Repubblica titolava Il virus torna a far paura, ieri titolava Il virus torna a far paura, crolla l'uso delle mascherine, titolava ieri Repubblica, ieri, non 10 anni fa, allora oggi mi aspetto di leggere i giornali, voglio dire cosa succede con la storia di questa grande paura del virus, che cosa sta succedendo oggi, come si continua su questa bellissima storia, così come io continuerò questa sera sulla bellissima storia, lo cita oggi il giornale della condanna di Berlusconi, ci sono altre carte, i giornali oggi ci faranno capire come è che dicevano i nuovi focolai, cosa succede, il virus che torna a far paura, zero, 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 non c'è nulla, nulla sulle prime pagine, praticamente nulla se non un nuovo nemico che trova il Corriere della sera, cioè i ragazzi che vanno a fare l'aperitivo, oppure la gente che va in spiaggia, eccoli gli untori, quelli che si vanno a prendere l'aperitivo senza maschere, grazie al cielo vanno a prendere l'aperitivo, l'aperitivo se lo bevono così, capito? Se lo bevono così a canna, senza le maschere, per fortuna, se no facciamo le mascherine tipo quei film porno di serie Z in cui ci sono le mutandine col buco, avete presente? Avete presente? No, non avete presente perché i miei lettori e i miei ascoltatori quelle robe non le vedono e non le immagino, neanche io ovviamente, però quello fa schifo, come l'idea di una mascherina col buco quando uno si prende la bibita, questo schifo oggi ovviamente è inesistente sui giornali, ma perché inesistente oggi sui giornali? I timori dove sono finiti, il virus che torna dove è finito, ve lo dico io dove è finito, nel finito del fatto che i numeri oggi raccontano di 192 nuovi positivi, 192! Ieri ci dicevano il disastro, il trend è crescente, 235! In realtà 235 in tutta Italia oggi sono carati, nonostante il cagarci sotto che vogliono mettere i giornali a 192, ma voglio dire, oggi pomeriggio potranno diventare 250, domani potranno tornare 160, stiamo parlando di contagiati che non è detto che vadano mai in ospedale e men che mai è detto che diventino dei pazienti in terapia intensiva, la paura del giornale unico del virus fa godere, ieri la Sarzanini, la giornalista che ci ha accompagnato e ha alimentato queste paure, ha messo la sua penna raccontandoci i timori per i nuovi focolai, oggi ovviamente queste penne in tinte nella paura sono tutte cambiate, tutte inesistenti, c'è solo la foto dei ragazzini che vanno a prendersi, che cacchio devono fare il sabato sera? Che cosa devono fare se non andarsi a prendere un aperitivo? Che devono fare? Devevano stare chiusi a casa a ropersi le balle, non possono uscire? Vabbè, oggi è zero, 162, in 12 regioni, in 12 regioni italiane non c'è alcuna terapia intensiva occupata, 12 regioni italiane, nel frattempo abbiamo detto, oggi i giornali, forse il quotidiano nazionale parte, i sindici vogliono il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di chi? Del malato? Dei due malati? E perché quando erano 150 mila i malati non si poteva fare? Oggi che ce ne ho uno, due o tre? Voi capite che cosa stiamo dando in mano ai nostri sindaci? Immaginate quel sindaco per esempio di quella località spiaggistica che ha il cugino nominato capo di gabinetto, quello che fa i decreti da sceriffetto che non vuole altri che vengano nel suo comune a giocare a tennis e non lui stesso, quello che mi ha aizzato tutta Mediaset contro perché dice non prende lo stipendio e non risponde alla mia domanda apposta che non prende lo stipendio per il semplice motivo che essendo stato un medico ospedaliero lo stipendio lo prendeva quello pubblico. Immaginate quel sindaco, dareste a quel sindaco la possibilità di darvi il TSO? Lo dareste? Io non andrei manco a Zaia che mi sta simpatico se posso dire per la questione dei contagi, ma comunque ragazzi siamo degli isolati e divertiamoci perché questo è il mondo, ci spiega oggi in un pezzo favoloso sul foglio Giulio Meotti della cosiddetta cancel culture, cioè in realtà bisogna mettere la museruola a tutti gli oratori che hanno un'opinione contraria rispetto alla vulgata totale. Oggi è stupendo, stupendo il pezzo di Giulio Meotti in cui questo professore di Harvard, strano che Mansfield possa ancora insegnare nell'università libera per eccellenza del Massachusetts, cioè Harvard, dice che il professore offendersi è meglio che ascoltare, è più facile e più sicuro, che è la cultura di questi cazzoni che oggi viene secondo me ben illuminata dal mio grandissimo eroe, Leclerc, grandissimo, unico, straordinario Leclerc che fa intanto una gara di Formula 1 straordinaria di ripresa e dice sì sono razzista, si mette pure una magliettina contro il razzismo, siamo tutti contro i razzismi, ma io non mi inginocchio in quella farsa col pugno da quattro cialtroni, posso dirvi una cosa? Io con uno che si inginocchia col pugno chiuso perché fa sta roba qua, io non c'esco a cena, ma non c'esco, gli dico scusami se tu ti sei inginocchiato col pugno chiuso e vuoi uscire a cena con me, non va bene perché mi hai già rotti i coglioni, sei una persona banale, sei uno della, come si dice, della cancer culture, non ci uscite, guarda senti, se vogliamo parlare di razzismo vuoi fare il comunista, vuoi fare la sinistra, benissimo, ma se ti sei inginocchiato in Italia col pugno chiuso e cosa, tu non esci a cena con me, ma manco me prendo un aperitivo con la mascherina con te, manco con la mascherina, non prendo niente con uno che si gioca, è un cazzone, un miliardario con la Mercedes che si inginocchia contro il razzismo, è un cazzone, un cazzone, capito? Non è che c'è un altro riferimento, ma vai a pensare a come tratti, è veramente, è proprio Tom Wolfe, quando c'era i camerieri che cercava il problema di New York, trovava dei camerieri bianchi perché non potevano servire nella sua fantastica casa di Berna, non potevano essere servite le tartine, posto che ha invitato le pantere, non potevano essere servite da camerieri neri. Sulla politica italiana c'è la solita roba, così come sull'economia italiana, Di Maio, il Corriere della Sera dice che così si va a sbattere, finalmente anche Di Maio se ne è accorto, anche se il senso della sua proposta è che non si deve andare al voto anticipato. Dice invece Massimo Cacciari, ve lo segnalo giustamente, che al voto anticipato si deve andare perché in questo governo è un disastro. Il Premier Conte invece, secondo il messaggero, pensate un po' voi, toc toc, Conte, dopo aver l'abbracciato Di Maio, dopo aver fatto il fenomeno, quello che dice che non è, come si può dire, il governo non è del Movimento 5 Stelle, pare, secondo il messaggero, che Conte si iscriverebbe al Movimento 5 Stelle. Nel frattempo straordinario, sulla questione del virus e del TSO, lì la verità, un po' c'è ragione, ma insomma noi facciamo sbarcare la Ocean Viking, io dico e rimandiamo i miliardari americani a casa loro, facciamo il TSO obbligatorio e cercaniamo quei ragazzi che prendono l'aperitivo, mentre invece si sbarcano dopo 11 giorni. Peraltro dopo 4 giorni hanno messo il sequestro di persona a Salvini, chissà cosa faranno alla Morgese dopo 11 giorni, ci sarà un lunghissimo processo. E poi c'è il famoso Consiglio dei Ministri di oggi, in cui dovrebbero esserci il piano nazionale per le riforme, che dovrebbe essere il contributo per raccordare i 170 miliardi di recovery fund e poi ci dovrebbe essere il decreto semplificazioni. Il titolo è quello della sera, che resta ancora in questo suo DNA un po' governativo, meno tasse, più treni, tutte, cazzate, scusate il termine, tutte stupide. Lo dico io? No, non lo dico io, non lo dico io. Stasera il decreto per le semplificazioni, vi leggo i commenti principali dei giornali italiani. Sabino Cassese, decreto semplificazione, sono 48 articoli, tradisce promesse e attese. Francesco Forte, sul giornale, aria fittra, ministra di sinistra riscaldata, con molta retorica e poche novità. E vado avanti, Carlo Cottarelli, la stampa, il piano nazionale delle riforme, molte idee e poche priorità. Boeri e Perotti, si è sempre parlato, sin dai tempi di Calderoli, di semplificare buone intenzioni, ma in realtà la via del Palazzo Chigi e delle semplificazioni è la stricata di buone intenzioni. Il vero problema, e questo lo dico anche contro le mie idee dei giorni scorsi, in effetti facciamo gestire a questi scappati di casa e a quel mediatore di Conte che non prende mai una decisione, teoria Cottarelli, 170 miliardi che arrivano dall'Europa, sicuramente con il recovery fund, gliele facciamo gestire a loro? Lasciate perdere poi molte critiche sul MES, oggi il segretario generale del Fondo Salvestati e Repubblica, peraltro un italiano dice che non c'è nessuna trappola nel MES, ma quello che veramente voglio dire, vi immaginate un po' voi, vi immaginate un po' voi far gestire, abbiamo fatto gestire le emergenze a questi pazzi malissimo e adesso in una situazione di disastro in cui Gualtieri diceva, anche Gualtieri è considerato una specie di icona intoccabile, diceva che nessuno rimarrà indietro, siamo fenomenali nel raccontare storie che in realtà abbiamo indietro mezzo mondo, tutto il mondo indietro a noi in Italia, ci sono i Cassi Integrati, ci sono i 600 Euro, ci sono le imprese che non aprono più, non vi fate fare la lista come Salvini, tutto il mondo indietro e noi ci mettiamo a far gestire a questi scappati di casa 170 miliardi, gente a cui deve premettere come ha fatto Conte durante l'inutile, che fine ha fatto la roba di Villa Doria? Che fine ha fatto il piano Colau? Si chiede qualche giornale oggi, che fine hanno fatto tutti quanti i comitati tecnici che devono aiutarli? Insomma a questi gli facciamo gestire 170 miliardi, noi ci vediamo, Valeria, Nadia, good morning a te, Antonio, non ti fidare gli spacciatori di prestiti perché sono molto contrari a alcuni di voi all'idea che io non sia contrario al MES, guardate l'unica obiezione, me l'ha mandata uno di voi, mi ha scritto una mail sul sito nicolaforro.it e mi ha detto Nicola tu stai sbagliando nell'essere favorevole al MES, io dico ma perché sto sbagliando? Ed ha una tesi completamente diversa rispetto a quella di molti di voi, che non è una tesi politica, se noi ci arrivano 37 miliardi sulla sanità, sai che vuol dire? Che noi butteremo un sacco di soldi nel fare questa sanità e poi dovremo pagarla, e cioè noi dovremo pagare con i nostri contributi nei prossimi 10 anni, 15 anni, una enorme mastodontica sanità che avremo reso gigantesca in virtù di questa emergenza molto esagerata e chi la pagherà questa sanità? E devo dire che il tema non è del tutto sbagliato, un po' come chi pagherà le tre maestre alle scuole elementari quando CGL, CIS, Le Will voller aumentare a tre le maestre da scuole elementari, è tutto scritto, diceva questo nostro ascoltatore sul sito nicolaporro.it, vi do saluti dalla Puglia, Francesco, ciao, ciao, Solange, solange, beh stupendo, Gabriele, ciao, buongiorno anche a te Antonio, bene, io vi do una faccia e vi dico che questa sera a Quarta Repubblica gli altri documenti che vi fanno veramente capire quell'affresco di cui a me interessa poco il caso di Berlusconi in sé, quell'affresco incredibile della Cassazione, i grandi magistrati italiani, come parlano, come si comportano, che pregiudizi hanno, ragazzi un quadro devastante, ciao, a questa sera.